Mai in tempi recenti uno spettro di problemi e timori così ampi era stato generato da una sola causa. Il coronavirus attacca i nostri corpi, la nostra psiche, la nostra libertà, il nostro lavoro e il nostro portafoglio. Il World Economic Forum è solito stilare una sorta di classifica dei maggiori rischi per l'economia. Quest'anno per compilarlo sono stati interpellati 350 top manager. Al primo posto quest'anno ovviamente c'è il rischio di una recessione prolungata con le sue conseguenze. Il rischio di una disoccupazione strutturale lunga, il rischio che le piccole e medie imprese scompaiano in interi settori anche se alcune società grandi sono in grado di sopravvivere, il rischio del protezionismo e di meno movimenti trasfrontalieri di persone e merci sono tutti rischi che penso siano abbastanza evidenti e stanno iniziando a manifestarsi. Nel Global Risk Report vengono elencati anche i rischi di attacchi informatici, il collasso dei mercati emergenti e l'indebolimento dei bilanci pubblici. Bisogna riconoscere il lavoro delle persone che si sono rivelate essenziali nel settore dell'alimentare, negli ospedali, nelle scuole. Queste sono aree su cui dobbiamo concentrarci per avere una società resiliente e perché sono settori che creano lavoro. Anche il World Economic Forum sottolinea la possibilità unica di usare la crisi per costruire un'economia più sostenibile.